Musica Benvenuti sul canale dei massimi esperti da Categorie Suar Allora, nuova teoria dell'azione sui possibili avvenimenti futuri che porteranno alla caduta di Big Mom Ammettendo che Big Mom venga sconfitta a Wano, ma anche altri posti andrebbero bene, forse Airbus vedremo Io credo che gli unici elementi per poter abbattere Big Mom siano due Cioè, Monkey dei Luffy e Trafargar D, Waterloo Ora vi dirò le analogie tra la caduta di Big Mom, Loo e Napoleone Bonaparte Console, ma soprattutto imperatori di Francia Partendo dal nome del cappello, cioè Napoleon, passiamo poi alla storia vera e propria dell'Ottocento, del 1800 Una battaglia persa a Napoleone e a Trafargar, contro la flotta inglese dell'ammiraglio Nelson Mentre la sua disfatta definitiva avviene a Waterloo, in Belgio Quindi se uniamo a Napoleon, cioè il cappello di Big Mom, e i luoghi come Trafargar e Waterloo Ho pensato che Loo aiuterà Rufino a far cadere la mammona Questo ovviamente potrebbe valere anche per gli altri imperatori, come Kaido e gli altri Poi vorrei porvi un altro possibile riferimento alla Francia del Settecento Ossia i cinque astri di saggezza, i corosei, che secondo me equivalgono al direttorio in Francia composto dai cinque membri Che cos'era? Il direttorio è il termine con il quale si definiva l'organo posto al vertice delle istituzioni francesi Nell'ultima parte della rivoluzione francese proprio nel 1795 Era composto, prima di tutto, da cinque rappresentanti che rispecchiavano una sorta di capo del governo Dal quale dipendevano soltanto i ministri dopo di loro Con un esecutivo direttoriale, coloro che avevano posto fine al governo di Robespierre, con il terrore anche Si posero infatti un ben preciso obiettivo, evitare il potere assolutistico I direttori erano rivestiti poi di una serie di prerogative simboliche che servivano per accrescere nella loro autorità Alloggiamano tutti nello stesso edificio, proprio come i corosei Nell'esercizio delle loro funzioni dovevano sempre comparire con l'abito che li contraddistingueva E godevano di un trattamento superiore a quello di ogni altro funzionario pubblico E i saluti li fanno anche di Spero vi sia piaciuta questa è l'azione con riferimento storico-letterario Ricordatevi di lasciare un like a questo video Di iscrivervi alla pagina Facebook e tutti i link in descrizione One Piece, Massimo e Esperti Alla prossima Pirati, mi raccomando, seguiteci, condividete Vi aspettiamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima